ciao amico e benvenuto a questa nuova importante puntata del corso di crescita personale online gratuito dal titolo paura di cambiare vorrei ringraziarti per essere qui ancora una volta e per la fiducia che mi dimostri perché è basilare in questo in qualsiasi altro dei nostri percorsi nel video precedente abbiamo parlato delle tre strategie limitanti di difesa più usati dalla gente che sono il lamentarsi il proiettare e la rimozione ricordi bene poi ti ho chiesto cosa cambieresti periodicamente nella tua vita spero che tu abbia risposto e poi ti ho fatto comprendere spero che compi un tremendo errore di punto di vista perché la corsa prioritaria da cambiare tramite l'opportuna propria consapevolezza non è la fuori ma dentro di noi e la nostra stessa persona la trasformazione è obbligatoria cambiando le cose che fai e non continuandole a fare ripetitivamente non è colpa del governo ma solo tua devi prenderti la responsabilità del cambiamento ora per una efficace crescita personale tutto appuntato bene allora possiamo andare avanti è inutile ricordarti che facendo parte di un percorso di un tragitto di crescita qualora non avessi fatto ti pregherei di iniziare dal video numero uno e poi proseguire lungo tutti gli altri per dare un filo logico al ragionamento e comprendere così tutti i processi di quella che io chiamo la cascata degli eventi che vedremo tra qualche video grazie alla quale scoprirai che tutti i passi da seguire sono tutti concatenati uno dopo l'altro e perdendo negli iniziali non sapresti unirli logicamente per servirtene al meglio ok passiamo alla domanda nodale di questo video perché nella vita si deve cambiare perché è inevitabile cambiamo dentro cambia l'esterno la società tutto cambia l'errore sta nel voler manipolare tutto ciò che gravita attorno a noi ma l'unica cosa che riusciremmo a trasformare con sforzo e difficoltà siamo noi stessi ognuno di noi avrebbe almeno un motivo per cambiare e numerosi vantaggi nel farlo come ad esempio la cune dell'autostima voglia di realizzazione personale relazioni insoddisfacenti aumentare la propria produttività essere più focalizzati trovare del tempo creare qualcosa di proprio oppure per ansia tendenze depressive o autocritiche eccessive una cosa è certa solo un valido metodo che ti insegni a creare valide motivazioni un grande perché ed obiettivi definiti nettamente solo esso potrà garantirti il passaggio all'azione alla concretizzazione di ciò che desideri davvero un'altra domanda che mi formano spesso è quando si inizia a voler cambiare or bene ho individuato due sole condizioni preminenti due semplici motivi per i quali la gente inconsapevole cioè che non sa sente la necessità di voler cambiare e tende ad entrare in un percorso di trasformazione come questo sono facili da ricordare e dovrai rivederti in uno di essi infatti mentre il primo indotto necessario impellente urgente il secondo è prettamente volontario si inizia a voler cambiare per un diverso grado di insoddisfazione quando è grave significa che hai le spalle al muro quando è meglio invece significa che hai la pancia piena vivi nella comfort zone ma la curiosità si spinge a voler di più quindi vediamo singolarmente ognuno di questi due motivi quando non hai più scampo quando avverte di essere la frutta cioè vive grandi insoddisfazioni che potrebbero sfociare in qualcos'altro e quindi l'azione è urgente ha sopportato per anni contro ogni evenienza ma ora è allo stremo e rischia di precipitare rovinosamente attende solo la goccia che faccia traboccare il vaso ma non sa che dovrebbe desiderare quel momento perché sarà il segnale inequivocabile in cui dovrà solo cambiare senza alternative e senza ripensamenti avrà una forza propulsiva una motivazione molto maggiore rispetto al curioso non avrà possibilità di procrastinare e non si fermerà finché non sarà ad obiettivo prefissato infine l'adattamento delle nuove vesti dipenderà dalla motivazione personale e se non sarà abbastanza forte come abbiamo visto nelle fasi del cambiamento il problema potrebbe ripresentarsi e riportarti ad una colomorosa ricaduta verso lo stato iniziale per questo dovrai nutrire la motivazione con sempre nuova linfa sempre nuove gratificazioni qual è questa nuova linfa i risultati cioè il portare a termine gli obiettivi in agenda perché solo essi potranno spalare carbone da inserire nella tua fornace per alimentarti tu sei un astuto curioso o hai le spaglie al muro è importante sapere come e sia partiti ma qui interessa molto di più come e quando arriveremo al cambiamento di stato infatti non ti ritengo responsabile per la situazione attuale in cui sei ma questo non vale per il tuo futuro perché dopo aver appreso queste nozioni fosse in te io mi vergognerei se non pervenissi ai risultati di alto livello vediamo ora l'insoddisfatto curioso esso percepisce che vi è qualcosa che non va è qualcos'altro che potrebbe essere sicuramente migliorato passerà inessorabile del tempo forse mesi o anni finché non incrocerà spesso fortunosamente una speranza questa potrebbe essere rappresentata da un semplice libro un audiolibro un corso online conferenza oppure il magnetismo di un vero esperto grazie tra esempi arriverà il momento in cui deciderà volontariamente di destinarsi del tempo solo per se stesso ed inizierà un percorso che possa risolvere la propria coscienza la propria consapevolezza verso quella che può denominarsi come desiderio di conoscenza ora saresti curioso di sapere come cambiare lo so ma qualora non fossimo già amici permettimi di presentarmi sinteticamente sono tonilo corriere autore best seller amazon e audible con diversi titoli creatore del portale invest su di me punto com ed ideatore di questo percorso di crescita personale introduttivo totalmente gratuito che prelude al corso completo dal titolo inequivocabile come cambiare vita in 30 giorni che con un metodo unico facile veloce garantito aiuta insoddisfatti a direzionare la propria trasformazione per pretendere qualcosa in più in tutti e nove i settori della propria vita per sé e i propri cari un'altra domanda di rito è ma come cambiare come ho detto all'inizio il compito tra i più difficili nella vita è proprio quello di riuscire a cambiare se stessi certo che l'urgenza è inarrestabile ma lo potrebbe diventare anche il curioso con la giusta motivazione grazie ad un metodo per tale motivo ho deciso di aiutarti perché non sempre cambiare equivale a migliorare ma per migliorare dovrai per forza cambiare scusa il gioco di parole ma infatti è una cosa importante che potrebbe tranquillamente rappresentare e determinare il preludio della tua rinascita e o la cessazione delle tue tante insoddisfazioni in diversi dei nuovi ambiti della vita questo video ha lo scopo di stuzzicare la tua curiosità in quanto oltre ai primi nostri video so che probabilmente sei a secco di nozioni del genere e per questo sono estremamente certo di iniettarti una notevole dose di interesse trattando uno degli argomenti più terrorizzanti del genere umano il cambiamento perché nonostante sia costantemente attorno a noi non ce ne accorgiamo e allora ti consiglio di vedere una foto tua o dei tuoi cari di qualche anno fa per non avere più dubbi ti risulta da strano ma già la semplice parola cambiamento suscita nella psiche dell'ascoltatore un vero bombardamento perché mette in discussione la tranquillità nella propria comfort zone e quindi il cervello va subito in allarme un semplice consiglio mi sembra d'obbligo per evitare questo pseudo trauma psichico prova a sostituire da subito tale parola cambiamento con termini che generano sensazioni più positive come trasformazione crescita personale espansione evoluzione miglioramento progresso sviluppo ok bene per quanto sia psicologicamente esplosivo il cambiamento è fondamentale pensa che lo dichiarano fortemente molti dei miei stessi guru ad esempio buddha disse che il cambiamento è l'unica certezza nella nostra vita similmente disse anche il mitico einstein cioè che l'unica costante per il futuro sarà il cambiamento e che l'intelligenza e la capacità di cambiare quando reso necessario mentre la follia sta nel fare sempre la stessa cosa attendendosi risultati diversi mi piace ma siccome ritengo fondamentali questi concetti li ripeterò volutamente spesso per timbrartele a caldo nel cervello infatti ho poggiato le mie credenze su queste dichiarazioni e da allora è stato un divenire di scoperte che mi hanno portato a volerle condividere con il mio pubblico spesso mi sentirai ripetere anche l'azione e il vero antidoto alla paura infatti la vera e distantanea soluzione per trasformare la paura di cambiare è l'azione istantanea quindi come imparare a passare a reazione un formidabile contributo al mio personale processo attivo al cambiamento che ha fortemente contribuito al mio attuale equilibrio in tutti i settori mi è stato regalato dalla mia insaziabile curiosità del bimbo che mi ha certamente instillato uno dei miei guru ricorrenti einstein che ad esempio ad una domanda del nipote circa la sua presunta genialità rispose da fuori classe dicendo tesoro mio io non sono un genio sono solo un gran curioso standing ovation la curiosità è il perno su cui ruota la conoscenza se non hai la curiosità di voler imparare qualcosa contro voglia non lo farai mai che tu sia curioso lo diventi è fondamentale alla tua crescita e spero che come me tu faccia impazzire google con decine di richieste al giorno ma ti definisci intelligente allora risolvi il problema senza lamentarti competi contro te stesso e di vera davvero soddisfacente il percepire di riuscire costantemente a vincere contro ogni aspettativa già questo da solo sarebbe per te una grande prima vittoria nel grande percorso di trasformazione poi vittoria chiamerà vittoria più grande e la cascata degli eventi cioè quell'effetto domino che tanto auspichiamo si concretizzerà con un tua grande soddisfazione questo è sicuro la sicurezza e il controllo su tutto sono impossibili sono solo un'illusione specie in un mondo caotico come l'attuale sarà sicuro solo se tu lo vorrai io consiglio di imparare a essere pronti alla caduta molto meglio imparare a convivere sereno con l'incertezza perché qualsiasi cosa accada anche la peggiore con la consapevolezza sarò sempre in grado di avere e saper utilizzare le mie capacità per fronteggiarla finché potrò senza mai abbattermi comprendi ciò dovrà essere costantemente interpretato come una vera e propria sfida contro te stesso e mai come un problema senza soluzione è vero a tutto vi è soluzione tranne chi alla morte se sei in equilibrio sarà difficile cadere perché esso è l'assommatorio delle forze che insistono su di noi questo è un altro grande motivo in più per intraprendere il nostro corso completo se riuscirai nel tuo proposito sai cosa produrrà questo modo di fare a livello cerebrale l'allargamento costante della tua comfort zone e la promozione ad illuminato alla fine sarai davvero cambiato e quando ne avrai piena consapevolezza e percezione sarai benvenuto nel ristretto club ricapitolando in questo video abbiamo affrontato il grande dilemma del perché nella vita si deve cambiare e dopo averne compreso l'inevitabilità siamo passati al quando si inizia a voler cambiare abbiamo visto che ci sono diversi gradi d'urgenza seguendo abbiamo affrontato la grande difficoltà del come cambiare ciò inizia con l'azione cioè iniziare a muoverti nel fare qualcosa nella direzione dei tuoi obiettivi ma nel prossimo video tieniti forte tratteremo proprio la famosa cascata degli eventi il vero percorso in step che dovrà iniziare senza possibilità di sbaglio infine augurandoti work hard cioè di lavorare duro su te stesso ci vediamo al prossimo importante video per un buon inizio di trasformazione da bruco a farfalla un grande abbraccio da toni di investisodime.com